Ci siamo già visti, abbiamo già fatto un'intervista, insomma, però adesso ci siamo qui alla Mianonimberina, abbiamo visto che c'è stata molto più gente rispetto a Monterodono, insomma, si già possiamo dire che è un successo questa scelta. Penso che comunque è un soggetto che nasce da tempo, ma anche perché abbiamo messo la prima, è una storia che appassiona e travolge tutti perché è grande, è una storia importante, è diversa da tutte le altre, credo che bisogna fare direttamente e ascoltarla, perché dice anche qualcosa di un'intervista. Senti, guardando un pochino al futuro, senza sapere come andrà il film, da come il film finisce, ci potrebbe fare quasi intuire che ci potrebbe essere un segno, secondo me se ne trovo, sarebbe questo segno oppure no? Io penso che si potrebbe fare, solo che cambiano un po' anche maggiormente la storia, perché comunque bisogna scoprire come è andata a fine la storia di questa scelta, io penso di sì, è uscito, poi adesso è stata la discussione di questo segno. Va bene, grazie, grazie.